Start, 2, 1, initial mission and liftoff! Perché vi faccio questo video? Perché mi è arrivata la comunicazione del rilascio della patch 1.9.4, allora sono andato a vedere e in effetti mi fa pensare a un gioco che potrebbe essere già pubblicato a breve o comunque quest'anno. E' cambiato tantissimo quindi io non mi ricordo assolutissimamente nulla ma ho detto, l'ho iniziato a giochicchiare un pochino per riprovarlo e ho detto no qua lo devo portare così ne parliamo perché io avevo definito uno dei migliori city builder di stile di stampo medievale Fastest Frontier e rimango tuttora di quest'idea ma questo è un gioco con una costruzione totalmente senza griglie quindi senza spazi posizionabili. Nell'ultimo patch hanno aggiunto un nuovo sistema di catena di produzione della carne, dei bisogni di cibo piuttosto che hanno rivisto completamente il sistema delle taverne, hanno migliorato un sacco di cose quindi il sistema di case, le nuove trader route, un sacco di cose interessanti e anche la possibilità appunto di generare da soli una mappa quindi da una mappa cartacea poi viene generata la mappa tridimensionale. Ora siamo in pausa, la grafica se andrete a vedere il video di 5 anni fa del 2018 la grafica era totalmente diversa e il gioco è anche in italiano. Abbiamo un'interfaccia che ci divide tra monete, il saldo giornaliero medio, il cibo, la stoffa, il legno, la pietra, gli attrezzi, la popolazione, la felicità, gli abitanti disoccupati perché ad ogni mezzo, ad ogni edificio possiamo andare a aggiungere o togliere e vedere chi abbiamo assegnato a quel lavoro. La cosa molto bella ed è l'innovazione un po' di questo titolo è che noi un po' sullo stile di Cities Skyline noi mettiamo l'area residenziale dove i nostri villici possono andare liberamente e costruire. Prendono le risorse del villaggio, allora iniziamo dalle basi, c'è il taglialenia, il taglialenia ha due persone assegnate e va a estrarre dove io ho impostato la zona di estrazione che prima era qua. Dopodiché noi mettiamo l'area residenziale e anche l'area del rimboschimento dove se facciamo la capanna del taglialenia, quello del bosco, sono guardi a boschi, va a rinfoltire. E in pratica io cosa ho fatto? Ho messo l'area residenziale qui e qui. E loro cosa hanno fatto? Dove camminano si generano in automatico le strade, non quando ci camminano la prima volta ma quando diventa un percorso abituale inizia a formarsi la strada. Vedete che qua si è formata la strada che passa in mezzo al boschetto, allora io ho detto scusate ma allora a questo punto scaviamo, cioè scaviamo, tagliateli qua in mezzo gli alberi e poi li rinfoltiamo da altre parti. Tra l'altro il gioco è composto, la mappa è composta ad esagoni dove man mano noi possiamo andare con questa funzione di territorio ad acquistare spendendo soldi. Quindi il primo territorio è gratis, il secondo pure, il terzo si paga ma soprattutto poi c'è una tassa di mantenimento. La particolarità, adesso intanto avvio, la particolarità di questo gioco è che comunque arriveremo a dei punti in cui potremo costruire degli edifici modulari quali castelli, torri e mura. Quindi è tutto in mano ai nostri villici, cioè noi possiamo dare l'incarico di costruire qualcosa, in questo caso io ho fatto costruire il pozzo e altre cose, il mercato. Questo è molto bello perché il mercato, una volta che noi lo posizioniamo, possiamo decidere di mettergli che tipo di bancarella, possiamo decidere di mettergli una tenda di protezione alle bancarelle, insomma. E c'è un tutorial piuttosto ampio che ci insegna a giocare. Questo ovviamente è un video bonus, il gioco lo abbiamo già visto, quindi non sarà un video lunghissimo, però giusto per incuriosirvi riguardo a questo titolo, perché quando noi andiamo a posizionare qualcosa vedete che il posizionamento è sullo stile, eccolo qua, pianta alberi nelle zone di rinforestazione, vedete noi con una shift possiamo ruotarla e quindi io vado a piazzarla qua. Qua si sta creando una sorta di piazza, ma la piazza è un po' inutile qui perché qui c'è il granaio, qui c'è l'officina del costruttore, c'è il tagliapietre, ma in realtà poi il fulcro della città è qua. Vedete che qua i villici si stanno costruendo le case, quindi stanno andando a, vedete poi si aprono tutte queste finestre, c'è un tastino che, backspace, che ci fa chiudere tutte le finestre, perché tutto apro qui, apro qui, apro lì e rimangono tutte aperte e quindi è un po' fastidioso. E loro stanno comunque lavorando, stanno, ovviamente questa sarà una zona che non avrà risorse. Quando poi i cittadini avranno accesso a risorse più di qualità, questo un po' sullo stile di anno 1800, miglioreranno, provvederanno loro stesse a migliorare le case. Quindi noi non abbiamo un'interazione diretta sugli edifici, noi siamo un po' come fossimo una divinità, insomma. Poi ci saranno tutti i gradi di tipo medioevale, quindi insomma avremo i servi, avremo i nobili e tutte quelle cose lì. Qua abbiamo il libro, vedete che è lo stato di servo, si accontentano di una chiesa accogliente e un tetto sopra la testa. Poi abbiamo la possibilità di osservare la casa di ognuno di loro e il mestiere, quindi abbiamo ancora dei disoccupati, ma va benissimo perché abbiamo poi altro margine. Qua abbiamo tutti i rapporti che ci vengono fatti, qua abbiamo l'esercito che non abbiamo, qua abbiamo la progressione con la prosperità, perché infatti la vediamo qua in alto, dopo andremo a vedere. Abbiamo l'economia, quello che ci danno le missioni così, abbiamo le risorse, con le varie rotte commerciali dobbiamo sbloccare ottenendo delle risorse. Con 20 assi sblocchiamo la rotta commerciale, non abbiamo ancora le assi perché non stiamo raffinando, non abbiamo ancora avviato la production chain, come si dice, del legname. Intanto abbiamo costruito la bancarella. Il tutorial ci dice adesso di assegnare un mercante e assegnare bacche alla bancarella del mercato. Perché? Perché noi abbiamo questa zona qui che è assegnata come zona di estrazione e quindi abbiamo il capanno dei raccoglitori di raccolta con una persona che va e raccoglie le bacche e poi le porta al granaio che è, vedete, possiamo scegliere una risorsa fino a 4 da stipare all'interno ed è molto comoda come cosa. Cliccando qua invece dovremmo assegnare la risorsa, quindi gli assegniamo le bacche e il mercante 1. Quindi a questo punto noi quello che raccogliamo, tecnicamente, non devo ancora capire bene le meccaniche. Perché poi se qualcuno di voi invece è espertissimo e vuole spiegarmelo sotto, benvenga, perché questo potrebbe essere un gioco che potrei giocarmi, per conto mio, o magari in live. E vedete, prende una bella forma la città. Non avrei mai pensato di farla così e infatti è bellino a vedere. Non so se loro vanno e prendono liberamente le bacche e adesso che le vendiamo al mercato, abbiamo anche il mercante, le devono pagare adesso, però è diverso. Poi inizieremo a creare delle caster sociali un pochino più elevate, comprare terreni. Insomma, quasi potrebbe fare una strada che sale e il castello qua in alto dei nobili, insomma, o la città alta, insomma, diventerà tutto molto molto bello. Voglio vedere se effettivamente appetibilità bassa, perché gli manca un pozzo anche di là. Favorisci l'immigrazione, assegna un lavoro a tutti gli abitanti del villaggio, ne manca uno. Aumenta la felicità del tuo villaggio a 75, attualmente 70. Ok, abbiamo costruito il guardia boschi, quindi ci manca il guardia boschi. Ok, abbiamo tutti impegnati adesso, tecnicamente dovrebbe essere, infatti. Ora, gli mettiamo la zona del rimboschimento, in modo che... Vedete che qua stanno intanto tagliando gli alberi dove c'è la strada. E il rimboschimento lo potremmo mettere qui. Sì, oddio, non ha molto senso, dovremmo tagliare di qua allora, dopo. Una volta tagliato tutto qua, allargheremo qui, man mano ce lo teniamo valido. Dovremmo fare un pozzo anche qua per mantenere l'appetibilità alta dell'ambiente. Infatti vedete che il pozzo qui rifornisce questa zona, ma qua va rifornita in un altro modo. Quindi mettiamo un pozzo qui, lo faccio costruire, manca delle pietre, insomma. Consiglio, trarre profitto dal commercio. Un abitante del villaggio che si intende di affare ti suggerisce di stabilire una rotta commerciale con il tuo vicino Nordbury. Ciò ti consentirà di vendere risorse per acquistare quello che non puoi produrre. Dovresti iniziare con le assi perché Nordbury ne ha bisogno. Mettiamo in alto. Ok, vediamo. Costruire, acquisire magazzino nel libro, schede della progressione, costruire magazzino, assegna assi al magazzino. Nel libro. Sì, sono d'accordo, ma dobbiamo sbloccare questo commercio. Loro producono, acquista da loro questo. Quindi agli attrezzi, la cera, la candela, fanno un sacco di cose e possiamo vendergli bacche o pietra. Ma il problema è che noi non abbiamo la produzione di assi. Quindi dobbiamo cercare... Eccola qui, la segheria. Interessante. La segheria la mettiamo magari qui. Perché abbiamo il taglia linea lì. La segheria la mettiamo qua. Possiamo ruotarla. Girata verso il boschetto. Vedete che non ci sono compenetrazioni. Cioè, la strada è quella, ma se noi costruiamo la strada viene spostata. Cioè, la strada viene formata dal percorso che fanno normalmente loro. E qua in mezzo vogliamo metterci qualcosa e ci mettiamo qualcosa, insomma. Adesso qua inizieranno la produzione. Io adesso sono a velocità 3. Sì, vabbè, dovrei andare a velocità 1, ma è veramente lento. Comunque, sta prendendo forma. Dovrei espandere un pochino la zona qua di residenziale. E poi con il pozzo dovrebbero cambiare un po' di cose. Vediamo. Potrei lasciare uno spazio in mezzo, dove magari fa la strada. Non lo so, vediamo. Intanto, questa è la zona. Adesso, uh, con il tasto centrale del mouse eliminiamo il... Ok. Adesso. Vediamo, vediamo, vediamo. Il pozzo, il pozzo, il pozzo. Devono produrre il pozzo. Manca uno di pietra. Io adesso gli do la priorità massima. Quindi renderanno più appetibili sicuramente... No, vabbè, l'appetibilità è alta di questa casa, anche se... No, questa è media. Motivo? Vedete qua, posso autorizzare l'aggiornamento della unità abitativa. Perché qua voglio vedere se posso decidere di... Nel mercato io tecnicamente potrei aggiungergli anche altro. Vabbè. Perché quando piazzate il mercato vi mette un'insegna e poi potete decidere se mettere la bancarella o il tendone del mercato. Viene lasciato tanto in autogestione qui. Qui cosa è successo? Un immigrato chiede udienza. E di cà. Ho aggiunto... Sì, ho aggiunto due persone che sono arrivate. E quindi potranno mettersi all'opera con nuove case. Ok, ed espandosi. Perché ovviamente la popolazione è questa, le case non possono aumentare. Sono dieci persone, mi aspetto cinque case. Cinque case, uno da tre. Me ne sfugge una, ma va bene. Intanto abbiamo aperto... È già cambiato l'aspetto rispetto a prima. Perché è bellino. Perché non abbiamo più... Prima era molto più folto il bosco. E non si vedeva la strada. Adesso direi che ci stiamo un pochino sistemando. Adesso abbiamo il pozzo qui, che manca di uno di pietra. Potrei aumentare il tagliapietre di uno. No, beh, sono già... Vagano e trovano pietre a caso. Qui non ci sono giacimenti e cose varie. Però ci manca la pietra. Quello è... E tra l'altro viene richiesto anche qui dieci di pietra per fare la segheria. Quindi io direi che disoccupati ne abbiamo due. Li piazziamo al tagliapietre a questo punto. Nessuna risorsa da restare. Ah, bene. Non abbiamo più risorse da restare. Motivo? Vabbè, li facciamo un altro. Vediamo se lo trovo. Eccolo qua. E... No. Perché è rosso? Eccolo lì. Ci vengono indicate lì. E qua non c'è niente. E qui ci sono delle pietre. Quindi... Ok. E demolisci questo. Ok. Adesso faremo la nuova baracca del tagliapietre. Intanto, qui abbiamo, come vi dicevo, la progressione. Quindi la ricchezza, il territorio, il commercio, la prosperità. Determinata dalla somma di queste. Abbiamo un popolazione messa bene. Il territorio messo bene, perché abbiamo due territori. Tranquillo. Occupato. Fiorente. Vivace. Prosperità. Insomma, abbiamo queste carte qua. Le aspirazioni del villaggio. Sono un tipo di perk. Con prosperità... 500. Facciamo un famoso costruttore. Qua abbiamo il perk più difficile. Completa missione militare promessa dell'arena. Cioè, ha tutta una parte medievale che mi fa pensare che il gioco abbia un ampio endgame o midgame rispetto magari a quanto visto in altri giochi. Ovviamente rimango sempre aperto ai vostri pareri qualora siate foste esperti del titolo e voleste aiutarmi. Allora, intanto... Intanto il tempo è sempre accelerato. Siamo al mese 3, settimana 3, giorno 4. Quindi stiamo già giocando da un po'. Non so se ci siano anche le stagioni. Questo sono completamente ignorante. L'ho ripreso in mano a casa. Ne sono rimasto stupito. Più di quanto... Ne è rimasto stupito quando il gioco uscì nel 2018 in early access. Lo è ancora, ma penso ancora per poco. E quindi, insomma, ho detto facciamo un video bonus perché bisogna parlarne. E adesso le risorse le abbiamo fatte. Tecnicamente dovrebbero venire qua e finire il pozzo. Ma intanto vedete che sto qua, sto bambu qui, ha costruito la casa qui. E quindi il pozzo è praticamente se l'ha fatta vicino a casa. È mica scemo. Però... Ecco il villaggio qui. E vabbè. Dovremmo decidere meglio le zone, insomma. Fate il pozzo però. Eccoli che arrivano. Forse no. Vanno solo a casa. E dovremmo finire anche qui. Però le risorse non ci sono. Però intanto ne stanno producendo però. Quindi di pietra ce ne sono. Intanto vedete qua. Clicco qui, me le chiude tutte. Abbiamo il libro, le zone, il territorio. Ci fa vedere tutta la mappa dei territori come vi ho fatto vedere prima. E qua invece abbiamo la visibilità. Quindi quanto è attraente un territorio. La fertilità. Abbiamo i minerali. Che non mi fa vedere. Perché non ci sono. Probabilmente. Sì, c'è qualcosa qui. Abbiamo le aree zonizzate. E i confini del possedimento. Che sono questi. Che teniamo attivi. Descrizione e comandi sovrapposto. Va bene, dai. Allora. Sì, qua ne manca sempre uno. E questi qua non producono risorse. Non si sa il motivo. No, intanto adesso stanno andando qua e producono risorse. Aspettando. Eh, perché non riescono a raggiungere le risorse. Probabilmente dovrei dirgli di poter scavare liberamente. E scavare e estrarre liberamente. Quindi lo facciamo. Buttate giù tutto. Asfalto che ride. Via. Ok. Chiudi tutto. Via. Adesso stanno scavando. Ok. Eh sì, bisogna impostare quello, è vero. Non l'avevo considerato. Che in effetti va dato l'ordine per tutto. Va dato il permesso. Ci sono anche quelle lettre proibite dove non camminerà la popolazione. Adesso togliamo subito prima di cliccare per il tasto destro. E togliere la zona abitabile e si mettono a distruggere le case. Adesso teoricamente dovrebbero aver finito. Perché la pietra ce l'abbiamo. La stanno facendo, vedete? 3, 4, adesso. E dovrebbero andare a produrre il pozzo qui. E soprattutto la segeria qua, in questa zona. 20 di legna che hanno già consegnato. Il pozzo ne serve uno ancora. Spero che qualche buona anima vada a fare. Tra l'altro non abbiamo disoccupati. Quindi io diminuirei un minatore. e lo butterei qua, alla capanna del costruttore. Così almeno vanno a costruire. Ok, il pozzo c'è. Lo stanno finendo adesso. Ok, il pozzo è costruito. Quindi teoricamente queste sono delle case che teoricamente dovrebbero... No. Aumentare l'appetibilità. Eh vabbè, gli metteremo qualcosa di lusso più avanti. Adesso dobbiamo... L'obiettivo è quello. Stanno già... Sì, tecnicamente dovrebbero già avere le pietre per poterlo fare. Quindi io do la priorità e finiamo anche la segeria. Alla fine con la segeria inizieremo a fare un doppio lavoro perché inizieremo a tagliare alberi e inizieremo a produrre assi che finiranno nel commercio. Qua allarghiamo che poi diventerà tutto residenziale. Il villaggio poi si espanderà qua intorno e magari lasceremo la foresta di lato, la faremo ripiantare. Infatti qua stanno già iniziando... hanno già iniziato a ripiantare un po' di roba. Magari la infoltiamo anche qua in alto. Spostiamo tutto giù man mano. E qua... Ok, hanno consegnato tutto. Devono solo finire di costruire. Mi faccio vedere questa ultima cosa prima di chiudere. In attesa di un costruttore. Sì, se è un costruttore... Perché poi loro hanno il loro ciclo vitale quindi... vanno anche in pausa, insomma. Quindi... Osserva il posto di lavoro. Questa lavora lì. sta lavorando. Non so onestamente se abbiano anche un'età. Comunque la buona anima lì sotto di Omblin la costruttore. ce ne sta finendo. Ok. E qua in pratica abbiamo la possibilità di assegnare i carpentieri ma non ne abbiamo. Quindi devo togliere qualcuno allo spaccapietre. Ne togliamo un paio. Ok. E speriamo arrivi qualcuno in più in città. E raggiungiamo i carpentieri. Due carpentieri aspettano il legname e producono le assi. Le assi possiamo decidere poi di andare a metterle qui. Quindi... No, il granaio no. Bisogna fare il magazzino. Il magazzino che è un altro edificio ancora. Tra l'altro non lo so se ho. Campo di legname produzione di sosse no. Che non lo so se ce l'ho il magazzino. Vediamo se c'è. No. No, no, no. Al momento no. Vediamo cosa dice. Costruisce un magazzino. Qui si dice magazzino libro scheda progressione. No, dobbiamo farlo nel libro. Nella scheda progressione. Eccolo qui. Dobbiamo sbloccare il magazzino. Sì. Quindi sblocchiamolo. Ah, così? Proprio semplice. Sbloccare tutto. Ponte di legno. Ah, paghiamo monete. Paghiamo soldi. Ok, abbiamo fatto il magazzino. Bellino qua. Si può fare un ufficio funzionario. Taverna. Andiamo sotto giusto per vedere. Abbiamo le cose decorative. Abbiamo bottega del bottaio. Allevamento per stimola latte. Editto sul commercio ringrosso. Editto promozione lavorazione alla pietra. Abbiamo ponte di pietra. Gioielle. Miglioramento delle candele. Prodotti comuni. Decorativo. C'è produzione utensili. Scultore. Diciamo funzionario. Abbigliamento. È bellino. Bellina come cosa. Bene. Poi ci saranno tutti gli edifici insomma i castelli le chiese quindi ci sarà diventa molto bello anche questo da vedere un po' come Far Test Frontier per quanto sia più basato forse su un posizionamento diciamo un pochino più preciso ecco quello. Beh intanto fatemi sapere se avete gradito questa idea insomma di riportarvi Foundation che magari fa venire la scimmia a qualcuno di voi fatemi sapere un commento qua sotto alla prossima e ciao ciao